Una Pasqua un po' movimentata qui nelle vostre abitazioni? Purtroppo sì, non ce l'aspettavamo, è una sorpresa abbastanza amara e piuttosto paurosa più che amara perché noi qui non abbiamo mai avuto di questi eventi, però ecco, sono arrivati anche qua. A Pasqua la sorpresa c'è stata per i fratelli Battistini, ma non quella dell'uovo, più amara e movimentata. La visita dei ladri, che con la solita tecnica del buco nell'infisso hanno violato una delle tre abitazioni dei fratelli che vivono nel loro podere, in tre abitazioni distinte, a pochi metri l'uno dall'altro. Hanno agito presumibilmente dopo le tre e mezza di notte. Si presume gente non italiana a cercare queste case un po' isolate, ha dato l'impressione che ha fatto tipo un sopralluogo, come agire. E poi alla fine hanno deciso di andare nell'appartamento di mio fratello, che è più vicino al punto dove sono entrati forse, non so. Vedete, hanno usato la tattica del foro della maniglia, hanno forato la finestra, con un gancio hanno aperto la maniglia, sono andati in camera da letto, gli hanno dato, si presume, un sonnifero, uno spray che ti fa dormire, e hanno ravastato dentro l'appartamento. Mi hanno portato via il portofoglio della moglie, 70 euro, non è che. Hanno vuotato il frigo, praticamente. Al di là dell'esiguo bottino e dei postumi del narcotico inalato che ha procurato mal di testa e nausea al malcapitato fratello, rimane la sensazione di insicurezza e di sconcerto che prende dopo che la tua dimora è stata violata da malintenzionati. Adesso è stato d'animo vostro, insomma, un po' così. La paura che si ritornano, solo questo, si ritornano. Io ho fatto regolarmente denunce ai carabinieri, ma la paura c'è.